Domani sera una performance artistica all'alloggiato di Sarzana, un momento di arte di alto livello, non solo per addetti ai lavori, un momento da partecipare. Sì, è vero, la serata in realtà comincia alle 18 con una visita guidata insieme all'autore, a Francesco Vaccarone, alla sua mostra collezione privata nella fortezza firma Fede. Poi ci trasferiamo all'oggiato dove alle 19 Francesco Vaccarone incontrerà Antonio Ciacca, pianista italiano che vive e lavora a New York. Il tema per prima sarà quello di un piccolo incontro, di una riflessione, creatività e improvvisazione, come l'arte e la musica si assomigliano, riflessioni appunto, spunti di riflessione e di analisi su come la creatività o nel caso specifico nel jazz e l'improvvisazione nascono con le capacità compositive nella mente degli artisti e diventano poi immagini o musiche. Alle 21 poi ci sarà il concerto di Antonio Ciacca in Piano Solo, un omaggio a Bill Stenhorne. Antonio Ciacca, il pianista, è in volo, sta arrivando dagli Stati Uniti all'Italia, ma abbiamo qui un artista che domani avrà una sua performance. In che cosa consiste? Vogliamo un po' incuriosire i nostri telespettatori. Allora, con Antonio Ciacca io ho già avuto una bella esperienza perché nel 2010 realizzai 12 tavole, 12 dipinti per 12 sue composizioni, che furono esposti al Lincoln Center a New York in occasione del Festival Jazz Day. Quindi con Antonio noi proveremo a raccontare al pubblico da dove scaturiscono, nel mio caso, le mie immagini e nel suo caso i suoni. E sarà una cosa curiosa perché normalmente le persone, per esempio, nel caso della pittura, pensano che noi abbiamo dei concetti e dei pensieri che poi traduciamo in immagini, invece noi abbiamo delle immagini su cui lavoriamo, cioè ragioniamo per immagini. Sarà sicuramente un bel momento, un momento curioso, un momento forse irripetibile, almeno nel breve periodo e quindi un momento a cui partecipare volentieri.